Brusti, San Giovanni, Valdarno 68, la bottega del Tartufo, Umberdite 64, vince la squadra di Coach Franchini contro la squadra di Coach Staccini, una bellissima partita mai definita nei quattro quarti, sempre molto equilibrata e controllata da entrambe le squadre, 17-16 il primo quarto, 34-30 finisce la prima metà partita, vantaggio quindi per la squadra di San Giovanni di 4 punti, 50-49, si riduce il vantaggio alla fine del terzo quarto, 68-64, partita bellissima, starting five per la squadra di Staccini, De Pasquale, Miccio, Nativi o la Gide, Gregori, per la squadra invece di Staccini, Bartolini, Cotnis, Moriconi, Baldi, De Cassan, assente la play Pompei in panchina, la Moriconi che prende per mano la propria squadra, gli tono e molta mobilità, un grandissimo giropalla e molta intensità di tutte, specialmente con De Cassan e Baldi, la squadra si muove bene con il talento Stroscio che con 19 punti e 20 di valutazione è sicuramente per quanto riguarda la squadra di Umberdite la migliore giocatrice, dall'altra parte una Miccio veramente inesauribile, prende veramente per mano la sua squadra e con 23 punti e 28 di valutazione aiuta la sua squadra a portare a casa la vittoria come 15 punti di Olagide con 20 di valutazione. Per quanto riguarda i rimbalzi, la lotta a rimbalzi è sicuramente pari per entrambi le squadre, 38 sono rimbalzi per Bruschi e 35 per la Bottega del Tartufo. Il commento che ci sentiamo di dire è una partita bellissima e equilibrata che testimonia la grandezza di queste due squadre. La partita di domenica scorsa con Selarcius certamente aveva stimolato ancora di più oggi la squadra di Staccini a fare bene e ha fatto molto bene, benissimo. Diciamo che ha giocato a tutto campo 40 minuti con intensità veramente importante che testimonia che entrambe le squadre meritano il posto dove sono e che daranno vita a un playoff veramente importante. Guadagna due punti e stacca di due punti la squadra di Umbertide ma sicuramente la classifica oggi vede al terzo porto Selarcius e Bruschi, Basket Galli San Giovanni a 28 punti e la Bottega del Tartufo a 26 in vetta Workfaenza che vince a Cagliari e Colcus mentre Brixia deve recuperare partite che non si sono disputate oggi. Allora in attesa del prossimo turno auguriamo buon basket a tutti!